Il micro-medicolo per capire quali sono le caratteristiche del microplettico e delle modalità di irrazioni e nel caso del sorprendo intento che metti su un giorno in Marche di 27 e 1 abbiamo chiesto del comune Saldana responsabile dell'ora per l'idea che si fa è il patenone dell'Issa e la partecipante direzione di una battuta in su che non è intervento. In questo caso è un'esercizio di un'esercizio di un minuzione dell'autore che deve passare da un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio delle quali sono un'esercizio in tutto il transmito in il suo oppure del heart del day, dizzergato di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio ma non è solo un open ultra amico, e questo è un clean, e se fosse un'unica spiegazione, tutte le discapazioni este per un'unica in cui arriva, è un'unica si eser Saturday, quindi questa è un'unica, non si è un'unica, non si sono n'unica, non si è un'unica spiegazione, oltre a campagna, un'unica in cui è rimasto per un'unica. Perché è saluto via collocone, sono tutti questi che sono, da un po' di parte in Italia che non è stato uguale a dove va a rispondere da gli soldi e deve essere a rispondere a quanto si accorge... Abbiamo visto che anche la situazione di QTSA, dovremo occupare il risultato di QTSA, che non è stato così, ma però il risultato di solito di conseguire il problema, del mondo del mondo. Conso l'entra, anche con un tecnico che accompagna del mondo, una catena di ripartire, percibita il mondo, perché anche ad quedare capisitati il piano è insieme con la condizione delle cose che hanno proprio da condiviso perché ovviamente non è un problema, ma c'è un'esplazionato o che gli altri e gli altri sono da un'esplazionato di questo socio. Per esempio, a prevenito da un'esplazionata e di quella che si chiama il mondo è un'esplazionata di più, siccome questo caso non è un'esplazionata, così così, poi si è presente e che poi abbiamo un ruolo di rontazione, ma sia tutto che sono più strumenti che e sono i rispetto ai fratelli che sono più strumenti che sono più strumenti e invece sono più strumenti che spiegliani si può chare un sistema delle protecchioni al mio decreto del gobierno finanziario e di riscaldare in creazione del creatore troppo in realtà è stato un problema che voi chiuderebbe la sicura di un grande colestore, un più circolatore e un pazzo di un contesto come portante, 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 ecology, metà l'explan processo del mondo. È un'incommentata che ci sia un'efficienza che annuncatezza durante un'esercitata di un'esercitata, quindi serve, sesso, non la scimente, che nivel relata non la risolta, non la risolta in un'esercitata, e che vanno prima con il progetto al proprio libero, e non è un'area più importante del nostro society, perché è solo questo society, è un'area当然 di più di più, di più, di più sottolta, non si fanno la scena, 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 niente. E non potete fare un po' spagnolo, non si fanno la scena, ma sanno la scena, non si fanno la scena, non si fanno la scena. Grazie a tutti.